Dal libro di Neemia In quei giorni, tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle acque e disse allo scriva Esdra di portare il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdota Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. L'esse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriva Esdra stava sopra una tribuna di legno che aveva costruito per l'occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani, si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra, dinanzi al Signore. I leviti spiegavano una legge al popolo e il popolo stava in piedi. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriva, e i leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo, questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio, non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro, Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I leviti calmavano tutto il popolo dicendo, Tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate. Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni, e a esultare con grande gioia, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. I percetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I percetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. I percetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. I percetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. I percetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. I percetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, il Signore disegnò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite Pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guariti i malati che vi si trovano, e dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite, anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città.